cara lupa ti abbiamo nel mirino, stai attenta che prima o poi arriveremo speriamo prima che poi, però arriveremo bene ritrovati ragazzi sul canale di Gallows Game siamo qui con Rome 2 Total War con l'espansione Annibale Ad Portas il nome giusto è Total War Rome 2 dunque, è tantissimo che non prendevo in mano questo titolo la settimana scorsa ho pubblicato tre episodi ma che in realtà avevo registrato praticamente un mese fa per fare un veloce recap della situazione dunque, in questo momento siamo in guerra con la Libia e i Getuli la Libia ci ha dichiarato guerra, scusate, da poco ma praticamente nel turno in cui ci ha dichiarato guerra abbiamo fatto fuori uno dei suoi eserciti adesso qua c'è al secondo il problema è che non abbiamo nessuna sorta di difesa su questa costa quindi comunque dovremo stare attenti i Getuli invece sembrano essere abbastanza devastati quindi adesso cercheremo forse anche addirittura in questo turno di conquistare questa città e questo esercito che stavo mandando verso il basso no, non così dicevo, questo esercito che stavo mandando presso di loro forse è anche il caso di rimandarlo indietro perché non credo sia necessario o forse sì, non lo so, comunque vediamo dobbiamo stare attenti invece a un altro paio di cosette dunque, in generale, in Spagna c'è una fazione che sta diventando molto più forte degli altri anzi, in Iberia, usando la parola giusta che è la Lusitania che appunto ha tutta la Lusitania e tutta la Galicia e per fortuna per adesso ci sono gli Arevaci che ci fanno un po' di stato cuscinetto tra noi c'è da dire però che con la Lusitania abbiamo comunque dei rapporti abbastanza buoni quindi cercherei di diventare un loro alleato dobbiamo stare attenti a queste fazioni che sono alleate di Roma ovviamente Roma stessa ma in realtà il nemico che mi preoccupa di più sono i Massili i Massili possiedono queste tre città che sono situate qui, qui e qui quindi in realtà molto vicino nella app anche se possiedono tutta questa zona che è vuota e mi fanno paura perché hanno portato i loro eserciti qui in zona vedete uno due sono proprio pronti ad attaccarci qua invece sembra che non abbiano nulla vediamo un po' e dobbiamo capire se ci vogliono attaccare o meno perché erano il nostro vecchio stato cliente ma sembrerebbe che non ci siano possibilità di migliorare le relazioni intanto questo lo portiamo dentro questo esercito è molto forte infatti potremmo attaccare direttamente loro in realtà io a Nibale l'ho portato giù per completare la conquista qua adesso vediamo qua non ci sono truppe proviamo a scendere con questa e vedere se troviamo qualcosa ok twitch no ho visto un punto esclamativo ma non è niente di interessante da questo lato non possiamo fare molto in realtà forse potremo muovere la flotta che possiamo potenziare però i soldi preferisco tenerli per costruire qualcosa la spostiamo a cartagine questo perché perché i nemici che cioè in realtà per adesso non siamo in guerra ma io penso che ci dichiareranno guerra presto i malissi ma ma sili tutti i nomi complicati non hanno comunque sbocchi sul mare quindi per adesso non ci interessa avere la flotta mentre potrebbe essere un buon punto di difesa contro questi ok direi che possiamo passare il turno e vedere cosa succede durante anzi vediamo se possiamo attaccare direttamente loro qui sì sì possiamo farlo questa non la combattiamo perché comunque sono tutte unità di fromboglieri e giavellottisti e io non avendo unità a cavallo si perde ecco 92% aggressivo ok abbiamo perso 85 uomini accettabilissimo ottimo allora dunque con questo prossimo turno torniamo indietro abbiamo sviluppato un'altra tradizione militare dunque ci serve tra queste quelle più forti sono queste due se mi ricordo bene quello comenta i danni a tutto praticamente a tutto sì o quello comenta il bonus carica abbiamo un elefante sì abbiamo un elefante e anche la capacità di movimento sulla mappa quindi io farei proprio questa ok passiamo il turno e vediamo un po' cosa succede così guadagniamo anche un po' di più evviva ok dunque durante il cambio turno è successo che si sono sviluppati ancora i bassi fondi come prevedevo adesso guadagniamo poco però c'è stata una rivolta qui che dobbiamo fare fuori in questo turno vediamo un po' cavolo siamo davvero messi male 79% stiamo difensivi nello scorso episodio 116 vittime però cacchio schiavi schiavi generale grado 4 torna dentro il poregius aumentiamo il generale vediamo un po' cosa c'è più uno l'autorità grado di esperienza per le reclute della fanteria no 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 cavalleria grado di esperienza gravitas per turno dunque tu chi sei? ti chiami? malakbar malakbar di che fazione è? delle altri il famoso malakbar non so se vi ricordate negli altri video solo che dopo quello che è successo a Parigi l'akbar non lo faccio più dunque questo o potenziamo semplicemente questo morale gravitas per turno autorità sanzione per l'ordine pubblico delle etnie straniere trasformazione cultura naturale ma farei questo altro che anche perché il poregius è solo il 58% sta dalla nostra parte quindi facciamo così il poregius dobbiamo ricambiare di nuovo tutto cacchio 700 costa non ce li abbiamo neanche 1000 900 e tra l'altro dobbiamo anche smantellare smantellare sta roba qua dunque io procederei in questo modo prima di tutto ci servono informazioni quindi spia scendi vediamo se c'è qualcuno si stanno reclutando questi sono tanti uomini poco forti ma tanti uomini accidenti speravo di avergli dato una bella bastonata io farei così farei così dunque prima di tutto ti toglie la marcia forzata agades dobbiamo cambiare tutto agades qua dove sei togliamo le tasse così non scendi se tu esci fuori meno 12 ma in questo turno è meno 23 è dovuto al fatto che c'è differenze culturali no quello della conquista era il turno prima differenze culturali e stabilità della provincia meno 1 per turno meno 12 dobbiamo stare comunque lì dentro allora portiamo questo esercito qua uniamo i due eserciti questo con lo più forte quindi gli diamo le unità più forti è possibile sta cosa no ce ne stiamo dando troppe dunque frombolieri così sono troppi però 7 8 frombolieri facciamo 6 frombolieri di cui due forti un'altra linea di fanteria bella devastante e la cavalleria ok adesso tu marcia forzata entra qui dentro meno 6 va bene dunque tu ce la fai tornare dentro no allora tornerai lì il turno successivo così aumentiamo il rintegro 26 per turno a noi serve questo esercito bello pieno e bello forte qua ovviamente non possiamo reclutare nessuno qua invece forse sì no perché dobbiamo migliorare questo mentre questo qua aumenta solo il grado delle unità ok dunque e da quel punto di vista siamo a posto io non so se ci conviene con Annibale andare verso di qua o stare o stare di qui sono proprio indeciso sono proprio indeciso dunque questa spia dal prossimo turno io vorrei avere almeno il doppio degli agenti perché vorrei mandare una spia qua a vedere cosa succede per esempio qua i all secondo me verremo attaccati verremo attaccati però qua recuperiamo 29 buono 29 tanto dai scendiamo con questa giù qua con questa flotta io tenderei ad arrivare almeno fino lì ok si stiamo guadagnando davvero poco 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 la scelta si riduce a questo se portare questo esercito via o tenerlo qua perché se ci attaccano i all ci serve questo per una risposta immediata con al nibble attacchiamo da questo lato con questo esercito attacchiamo da questo lato fatti fuori loro queste tre città 1 2 3 ci dedichiamo alla libia e poi siamo a posto così anche questi stanno spostando le truppe però tra di loro non dovremo avere paura vediamo se è il caso di di fare qualcosa fatto di un'aggressione moderata insomma così se ci paghi 1000 lo facciamo no va bene allora mi tengo il rischio non so cosa fare con al nibble non so proprio cosa fare con al nibble dunque qua non vedo truppe è anche vero che qui in questo momento non ci sono e abbiamo pronto qua un esercito che dovrebbe vincere contro questi contro questi qua ci teniamo la spia qui per cercare di affrontarli type avanti possibile in modo che comunque la visuale ok però non attacchi nessuno perché non abbiamo la potenza per farlo attive i servizi militari questo agente è schierato qui potrebbe non schierarlo in questo turno boh non ho capito va bene lo stesso però qua come va l'ordine pubblico 99 cacchio 99 com'è che funziona comunque più di 75 da da sempre positivo quindi 99 va benissimo così ok allora ho deciso che per i getoli utilizziamo solo quell'esercito lì cerchiamo di usarlo bene in battaglia questo lo spostiamo lo spostiamo qua lo spostiamo qua perché le strade sono vicini riusciamo a fare il salto di qua velocemente e ci spostiamo verso gli in marcia forzata arriveresti lì no non ti voglio tenere in marcia forzata ok teniamo il turno dunque i getoli ci hanno fatto una proposta di pace ci pagano praticamente con tutti i soldi che hanno però io la rifiuto perché siamo in una posizione di vantaggio tale secondo me che questi soldi li guadagniamo in due o tre turni e poi li guadagniamo di più i turni successivi quindi rifiutiamo la libia è tornata indietro dunque popolazione travagliata turdetani si va bene tu hai qualche abilità particolare no vediamo chi sei l'ordine pubblico per i grandi personaggi allora stai lì che sei proprio la persona giusta iniziamo a tornare a tingis e spostiamoci verso sud loro hanno portato quell'esercito a nord bene però in marcia forzata dunque questi qui dove arrivano in marcia forzata fino a là però non riescono ad attaccarmi quindi non scendiamo in marcia forzata se no subiamo un'imboscata ok direi che è essenziale però fare un sabotaggio militare anche se spegniamo dei soldi pazienza fornitura di veleno perché non possiamo per quale motivo non abbiamo soldi ma il forziere c'è sceso ma non ha senso ragazzi non ha senso dunque fermi prima di muoversi vediamo cosa stanno facendo questi stanno puntando verso di là ok allora scusate ho fatto un piccolo taglio non so perché non abbiamo più i soldi ho portato la spia qua visto che non hanno altre truppe quindi nel prossimo turno proveremo a fare un assalto diretto contro questi vediamo se abbiamo la possibilità di vincere o meno forse è il caso di portare invece indietro Annibale di Gran Lena però non arriverà mai in tempo per questo scontro quindi tanto vale che lo iniziamo a portare verso Yol a questo punto posare anche la marcia forzata entra direttamente in città per pochissimo non ce la fa cacchio ok questi stanno recuperando alla grande quindi stiamo pronti perché io a questi gli dichiaro guerra a meno che loro non accettino qualcosa in questo turno niente allora questa fin dove arriva fino qui e sono in marcia forzata mi verrebbe voglia se avessimo i soldi di attaccarli in mezzo al mare anzi io lo faccio piazziamoci qua se lo riusciamo ad attaccare in mezzo al mare loro adesso stanno reclutando una forza ma è davvero piccola e questa è una città con le mura quindi fin tanto che non scende troppo l'ordine pubblico va bene così attenzione ecco cosa è successo i turdetani e i libici eh sì i libici e i lusitani si sono scambiati le città uno ha conquistato ebora e l'altro ha conquistato carituba cartuba cartuba vediamo se riusciamo a commerciare con loro o se per caso ci odiano meno 6 no non ci vogliono bene per niente però odiamo anche noi loro magari possono possiamo basare la nostra alleanza su questo ok intanto siamo entrati in primavera direi che possiamo passare ulteriormente il turno ok dunque durante questo nuovo cambio turno i gettoli ci hanno proposto un'altra pace questa volta diventerebbero nostri stati clienti ma come ripeto a noi non interessa io li voglio far fuori tutti vedete che i libici sono tornati indietro hanno avuto paura grado aumentato a lui rivolta imminente in mauritania che è questa qua sotto dunque si sono fortificati lì 600 e prima facciamo le cose fatte bene te riusciresti ad attaccarlo bene riusciremo ad assumere anche qualcuno bene quanto costa fare i sabotaggi militari 400 ok lì ci pensiamo dopo vediamo se riusciamo ad attaccare la flotta libica secondo me ce la facciamo non so se dopo però l'unità deve stare ferma dopo che la potenziamo quindi non lo so se intanto questi però li mettiamo in marcia forzata riusciamo anche a superarli e la garamanzia ha conquistato l'heptis magna attenzione questo non l'avevo mica visto eh eh ottimo ci avete fatto un grandissimo favore garamanzia adesso volete diventare un nostro stato cliente fatto di non aggressione moderata pagamenti un po' nonostante il bassa vediamo se ci vogliono pagare i tributi no per adesso ci teniamo solo questo accordo vediamo cosa accadrà successivamente dunque sembra che i libici ormai debbano tornare indietro probabilmente moriranno quindi questa flotta la portiamo di nuovo indietro vabbè gli ho fatto fare una avanti Andrea pazienza torna a cartago in marcia forzata ok poi loro si stanno riprendendo davvero la grande potremmo attaccare questi praticamente in un turno ah c'è un agente nemico qui allora potenziamo il nostro agente astuzia probabilità di sfuggire agli agenti nemici vediamo un po' qua assalta la pattuglia no non ci interessa veleno autorità zero massacro costringi tormenta incursione incursione ma non ci interessa molto potenziamo questo perché lui è uno che recluta i soldati quindi portiamo l'esercito di Hannibale qua ok ora ci giochiamo il tutto per tutto contro primo questo nemico poi come vedete siamo pronti e possiamo attaccare direttamente anche questi poi vediamo cosa fare con l'ultima popolazione africana che ci rimane ovvero questi con cui adesso in realtà stiamo commerciando quindi potrebbe andare bene così però potrebbe anche essere un'idea conquistarli intanto in Iberia cosa sta accadendo andiamo sulla mappa grande no questo no vabbè volevo vedere solo questa dunque lusitani lusitani perso questa città a favore dei turdetani però hanno conquistato quest'altra a favore degli arevaci che a loro volta gli hanno tolto altre due province quindi qua la situazione si sta mescolando questo potrebbe essere un bene per noi perché fin tanto che si venano tra di loro ci lasciano in pace ok allora attacchiamo l'esercito dei getoli sabotaggio militare fornitura di veleno sabotaggio militare riuscito è aumentato anche il grado della spia e gli aumentiamo ancora i danni da veleno perché secondo me sono la cosa più utile possiamo assumere qualcuno no perché non abbiamo più abbastanza soldi e attacchiamo questi ok dunque guardiamo un po' come siamo messi perderemo comunque tantissime unità però il nostro esercito adesso è molto molto pieno quindi direi che possiamo anche combatterla farla combattere a loro dunque farei modalità equilibrata perché non vorrei perdere troppe truppe con gli elefanti le abbiamo massacrati altri prigionieri ottima le abbiamo fatti completamente fuori nei prossimi due turni nel prossimo turno conquistiamo questa città e successivamente quella sotto e poi sposteremo la sposteremo la la spia da questa parte perfetto direi che possiamo interrompere il video qui spero che vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere con un mi piace o con un commento nel prossimo episodio molto probabilmente dichiareremo guerra ai massili forse perderemo siga perché in questo momento non è molto protetta ma gli altri di due valici montani invece sono coperti dalle nostre truppe fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo vedo che ha seguita molto poco però è anche vero che l'ho ripresa dopo un mese quindi magari anche per questo e sul canale fra poco inizierò anche Europa Universalis 4 quindi se magari non gradite questa serie ditemelo che però la sostituisco con quell'altra anche se comunque io ho proprio intenzione di portarla avanti anche perché sta diventando molto interessante ci vediamo in un prossimo episodio ragazzi GG a tutti chiedi chiedi Grazie a tutti.